Ciao cari amici tazzari e benvenuti oggi a Varallo, siamo venuti qui oggi per trovare il nostro caro amico e a provare il suo fantastico sushi, siamo oggi da Mambo Doni Sushi, e iniziamo. Allora io direi di iniziare oggi con The Maki e con California, mi sto programando, ok? E poi sicuramente prenderò una cosa. Poi cercandolo praticamente su internet ho trovato il centro d'autozai e lì ho contattato con il maestro Tatsumoto e ho cominciato la mia vittura con la faccina giapponese. Ah, ok. Ho fatto in Giappone qualche volta? Guarda in Giappone sono stato quest'anno, a maggio, e è stato un bel viaggio, ho conosciuto veramente la cultura giapponese e alla fine praticamente ho passato 40 giorni al mio sogno conoscendo l'ho finito qui nella terra in quella che qua. E' già pronto, lo vedete? Ok, allora andiamo pure. Wow. Toni, l'aspetto è fantastico, non vedo l'ora di assaggiarli e a tra poco con l'assaggio. Eccoci, ciao a tutti nuovamente. Siamo giunti alla parte conclusiva di questa intervista. Posso dire di essere veramente soddisfatto. Sono pieno. Toni, grazie. Lo zaglio ringrazio. Grazie a te lo zaglio. E prima di lasciarci volevo... Allora, in pratica va bene. Questo è il Mambo Toni Sushi, che si trova in via Umberto I numero 56, a Barallo. Grazie a te, grazie a te. Grazie a te. Grazie. Vuoi dire qualcosa? Eh sì, volevo dire ai studenti di Barallo e della Valsesia di approvare. Ciao a tutti, Toni, grazie ancora e alla sera. Grazie a te.